Salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati per questo nuovo Angola del Tirchione sempre in compagnia di Aritime per il canale Corsa Videoludica. Allora ragazzi, oggi invece di proporvi la solita schifezza di sempre, voglio invece proporvi un bel gioco di ruolo azione e avventura, sviluppato dai Biowar, che per chi non lo sapesse sono già famosi per aver creato la serie Mass Effect. Sto parlando però in questo caso di Jade Empire Special Edition, scaricabile gratuitamente per un tempo molto limitato da origine. Quindi ragazzi affettatevi e partite per questo viaggio per diventare i maestri d'arti marziali. Ricordatevi inoltre di lasciare un bel pollice in su se i video vi stanno piacendo, iscrivetevi al canale e visitate il sito Network in Progress. Ciao a tutti.